Musica Salve amici del Centrometro Italiano, alta pressione, rinforzo e caldo in aumento. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 9 luglio. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta la penisola con tempo asciutto e al pomeriggio poche variazioni con ampi spazi di sereno ovunque, da segnalare solo isolati acquazzoni sulle Alpi Occidentali e Appennino Meridionale. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nuvolosità in transito al nord ed ampi schierite al centro-sud. Temperature minime senza particolari variazioni e massimo in generale rialzo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.